Ali di Farfalla. Il titolo del progetto solidale è presentato ieri all'Istituto Comprensivo Statale di Stefanaconi, che vedrà coinvolti i bambini dei 50 comuni del Vibonese. Promotore dell'iniziativa il Comitato Civico Sopravvivenza, presieduto da Vincenzo Neri. Obiettivo? Quello di diffondere nei più piccoli il senso civico e la solidarietà, attraverso la farfalla, simbolo di libertà e grazia. Così, ieri, in una sala gremita, tantissime farfalle colorate hanno fatto da cornice la manifestazione. Questo progetto civico solidale prevede che nell'intera provincia di Vibonese e per tutti i 50 comuni si realizzino delle manifestazioni sollecitando le istituzioni, quindi le giunte comunali, i consigli comunali, le parrocchie, le scuole, perché i bambini esprimano, mediante un'elaborazione grafica, progetto Ali di Farfalla, appunto, quello che è il modo di vedere la vita a colori. Vivilandia sarà l'occasione per mettere a fuoco i principali problemi della città, ma anche per lanciare proposte, idee, azioni future per un paese a misura di bambino. 5 su 50 comuni nel 2014 si sono laureati i comuni pilota per il 2015 del progetto Vivilandia. Primi fra tutti in assoluto il comune di Stefanaconi e di Francavilla, Angitola. Siamo veramente felici che lo start-up di Vivilandia inizia proprio qui a Stefanaconi. Grazie. 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 Grazie.